Abbiamo presentato il manifesto programmatico del centro-sinistra, è stato un grande successo ieri sera, una grande partecipazione di cittadini e cittadine, una grande partecipazione di pubblico che ci ha dato particolare soddisfazione. Naturalmente adesso dobbiamo andare avanti durante le primarie, durante la campagna elettorale per cercare di rappresentare questi cittadini che sono venuti ad ascoltare il manifesto. Il manifesto sono le linee guida di un programma che verrà poi depositato con il candidato o la candidata a sindaco del centro-sinistra. I temi principali sono quelli che devono guardare allo sviluppo della città, una città che guarda al futuro, che guarda ai prossimi 25 anni, una città che guarda ormai al 2050, perché come dico sempre, un amministratore bravo deve essere un amministratore strabico, un amministratore che guarda lontano, nel medio-lungo termine, che quindi guarda le prospettive di sviluppo della città e che quindi sa cogliere le opportunità guardando il futuro e l'altro occhio deve guardare un po' più a terra e quindi chiudere le buche, sostituire le lampadine, tagliare l'erba e fare le ordinarie manutenzioni, comprese le asfaltature. Fano ha delle grandi opportunità, è la terza città delle Marche, ha delle grandi opportunità dal punto di vista della cultura e del turismo sicuramente, perché la nostra storia, la nostra storia romana, il ritrovamento quasi sicuramente della Basilica di Vitruvio devono essere colte come un'opportunità di visibilità non solo territoriale ma a livello nazionale e a livello internazionale, dal punto di vista culturale e dal punto di vista turistico. La fabbrica del Carnevale che si sta costruendo con il progetto dell'Archistar Rota sono sicuramente grandi occasioni, grandi opportunità. Nel contempo bisogna tenere in conto anche le opportunità di sviluppo, le infrastrutture, continuare a battersi affinché Fano sia collegata con l'altra parte dell'Italia, l'Umbria e la Toscana, quindi con il completamento della Fano Grosseto. La viabilità che deve essere migliorata sia a nord che a sud perché Fano soffre di problemi di viabilità e non possiamo più tollerare che il grosso del traffico passi a ridosso dalle mura romane dopo 2000 anni. Quindi investimenti sulla viabilità devono essere fatti. Dopodiché è chiaro, le terme di Carignano, il porto, il porto turistico, la cantieristica sono sicuramente occasioni e opportunità di sviluppo. Sono stati fatti 250 milioni di investimenti in questi anni, ce ne sono 140 in questo momento in corso e sono sicuramente una grande occasione anche per dire ai cittadini che l'amministrazione di centro-sinistra ha governato e ha governato bene la città. Non è sufficiente per vincere le elezioni, per vincere le elezioni bisogna convincere i cittadini che nei prossimi cinque anni il sindaco e la nuova giunta saranno capaci di fare anche meglio di ciò che è stato fatto in questi ultimi dieci. L'ultimo tema, ma non è l'ultimo, forse magari lo potremmo considerare il primo, è quello della sanità. Noi non possiamo più immaginare il silenzio assordante da parte della regione nei confronti della sanità della nostra città. Su Pesaro si fanno investimenti importanti, su cui Fano non ha nulla da ridire, ma Fano merita legittimamente di sapere quali saranno gli investimenti sul Santa Croce, quali reparti, quanti posti letto e con quale personale saranno gestiti.